Sguardo al derby con un pre-garra per definire gli ultimi aspetti tecnico-tattici, in chiave sfida con la Juve-Caserta e di rush finale in regular season. La Silica Savelino è pronta per una gara casalinga all'ultima di campionato prima dei play-off, che può concedere per letture e giochi anche un aggiornamento di sistema a quei giocatori apparsi in difficoltà nell'ultimo periodo, in particolar modo per Adonis Thomas e Levi Randolph. Oltre al Rugland MVP c'è la nota lieta di Marty Loonen, tornato su alti ritmi tra attacco e difesa, e l'aggiunta di Sean Jones, che dopo una settimana di allenamenti potrà assicurare ancora di più dopo il bel debutto con l'Orlandina di domenica scorsa. A Caserta invece soprattutto lavoro per l'evoluzione societaria, con il sindaco Carlo Marino, che dopo il consorzio proverà a creare le basi di un nuovo cambio o almeno di un sostegno forte a Patrono Giavazzi. I bianconeri hanno inserito Porfiri al posto di Daniele Cinciarini e non avranno a disposizione Josh Bostic, a meno di un clamoroso colpo di scena entro domenica. Juve è limitata ad un quintetto con addirittura gade forse da guardia e beriscia come ben più di un sesto uomo in uscita dalla panchina. Tutti i favori del pronostico su Avellino in una gara che sarà diretta dal trio Mattioli, Baldini e Ranaudo.